Abbiamo un ospite d'eccezione che doppiamente accogliamo con gioia e con affetto. Innanzitutto lo saluto, Saverio Gaeta. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a voi. E poi spieghiamo meglio chi è qualora qualcuno non lo sapesse. Ma vi dicevo, doppiamente è provvidenziale che sia qui perché con lui possiamo parlare proprio anche del rapporto oggi sabato tra la preghiera a Maria e la pace. E possiamo anche anticiparvi quale sarà il contenuto di una relazione che terrà questo convegno che ha al centro il Magistero di San Giovanni Paolo II. Dunque Saverio, tu come già caporedattore di Famiglia Cristiana, ora felicemente in pensione, saggista, soprattutto potremmo dire uomo che conosce la fede e la Chiesa dal di dentro. Innanzitutto, che messaggio vuoi dare oggi in queste ore terribili? Ricordare che queste vicende sono innanzitutto politiche, non sono delle guerre di religione, come talvolta si sente dire. E quindi bisogna distinguere questi due livelli. Alle persone di fede spetta il compito di ricordare sempre, comunque in ogni caso, che c'è una possibilità, c'è una speranza e che la fede non è qualcosa di astratto, per cui per esempio ieri quando Papa Francesco ha elevato al cielo la sua preghiera, ha semplicemente espresso un auspicio, una buona intenzione, ma ha chiesto a chi ha creato questo in cui viviamo di intervenire nella maniera che ovviamente sia possibile perché tutti comprendano che la pace non è qualcosa che si costruisce semplicemente per miracolo, ma è qualcosa che si costruisce con l'impegno degli uomini. Visto che l'hai citato, mandiamo immediatamente un piccolo stralcio proprio delle parole di Papa Francesco. Questi tempi lacerati dai conflitti, devastati dalle armi, volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abelle e perdendo il senso della fraternità non ritrova l'ammafera di casa. Dercetti per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio, insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Smarrire la via della pace non è successo solamente nel ventunesimo secolo, tant'è vero che appunto nel ventesimo secolo, in particolare, Carol Wojtyla ha cercato di raddrizzare tante volte la navigazione dell'intera umanità, possiamo dire. Sì, diciamo che tutti i papi, oggettivamente, soprattutto negli ultimi due secoli, hanno fatto degli interventi fortissimi sulla pace, ricordiamo Benedetto XV, un secolo fa, quando disse appunto che tutto era perso con la guerra, anche più undicesimo, più dodicesimo, l'hanno ripetuto, invocarono la fine di quella che era la prima guerra mondiale, che è stata la prima devastante esperienza di questo tipo, oltre a tutte le guerre locali che ci sono state. Quindi nessuno dei papi, diciamo, è il massimo esponente della lotta, sempre in termini un po' forti, della lotta per la pace. Ma Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, oggettivamente, avendo avuto anche un pontificato molto lungo, è stato uno di quelli che ha avuto più opportunità, anche perché ha vissuto esperienze, a parte quelle personali, durante la sua vita da giovane, della Seconda Guerra Mondiale, in cui lui fu pure coinvolto, in qualche modo, di tutta l'insurrezione dei polacchi, tutte le vicende legate alla Russia, che appunto aveva l'Unione Sovietica, che aveva inglobato la Polonia, però visse anche le guerre del Golfo, visse la guerra nell'ex Jugoslavia, e quindi in tutte quelle occasioni cercò di fare il possibile, sia a livello pubblico, cioè parlando, dicendo, esprimendo queste intenzioni di preghiera, sia a livello privato, attraverso la Segretaria di Stato, la politica diplomatica della Santa Sede. Quindi, Giovanni Paolo II, possiamo dire, però ha avuto sempre come slogan quello che la pace si raggiunge con l'educazione, quindi educare la pace è stato il primo tema che diede alla giornata mondiale della pace del suo pontificato, e quello è stato sempre lo slogan principale di tutti i suoi interventi. Tu che conosci benissimo le parole di Maria, hai scritto un'infinità di libri sulle apparizioni, possiamo fare una sorta di triangolazione tra Medio Oriente, Maria e pace? Quali sono i momenti chiave, le parole chiave? Allora, se vogliamo guardare a quelle che sono le intuizioni che nascono dalle profezie mariane, ovviamente non abbiamo nessuna certezza, ma possiamo intuire quello che ci vuole dire il cielo, il cielo ci allarma su quelli che sono i rischi che noi corriamo. Io dico sempre, è come se una mamma a un bambino piccolo dice guarda, se passi col semaforo rosso e le macchine ti spiaccicano, tieni presente che questo funziona così, non si passa col rosso, si passa col verde. Se io sto a fianco e sento questa mamma che dice ti spiaccicano, penso mamma mia, questa che ferocia di parole, ma se invece lei vuole far capire la drammaticità della cosa, perché il bambino è irrequieto e vuole sfuggire, allora parole forti così possono servire. Quando la Madonna dice, guardate, che se continuate a incrementare gli armamenti, a fare queste guerre, un giorno andrete verso l'autodistruzione, non dice io, Madonna, oppure io a nome di Dio vi minaccio di autodistruzione, dice siete voi che state andando verso questo. Allora, in varie profezie viene detto che non è chiarito ovviamente se è domani, fra un secolo o fra mille anni, ma dal Medio Oriente oggettivamente c'è il rischio che si sviluppi qualcosa di molto più serio, come nella profezia di Fatima è stato sempre detto che dalla Russia sarebbero arrivati dei problemi molto seri. Adesso la sto sintetizzando, ovviamente sono discorsi molto più complessi. Però Russia e Medio Oriente sono le due aree geografiche dove le profezie mariane, attraverso tanti veggenti, da Sor Aiello a tanti altri, sono state definite proprio come le aree di cui avere in qualche modo, su cui avere attenzione. Volevo farti un'altra domanda, ma è più opportuno ascoltare di nuovo un brevissimo straccio di Papa Francesco. Ti affidiamo e consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, quello che abbiamo e siamo e per sempre. Ti consacriamo la Chiesa, perché testimoniando al mondo l'amore di Gesù, sia segno di concordia, sia strumento di pace, ti consacchiamo il nostro mondo, specialmente ti consacchiamo i paesi e le regioni in guerra. E sicuramente ci sono tanti altri ambiti che vengono affrontati in queste ore, appunto qui a San Giovanni Rotondo, sul diritto, ma anche sulla geopolitica, sull'ambiente. Insomma, costruire la pace, abbiamo capito, è davvero uno sforzo da fare in maniera congiunta. La preghiera è quello che ci dice Maria. Avete sentito l'autorevole collega che cosa deve rappresentare per noi e se vogliamo ascoltarla. Però io ti volevo anche chiedere, tu personalmente, in questi mesi, hai avuto qualche momento in cui hai capito meglio quello che diceva Maria? O meglio, ti sei detto, ecco, vedi, effettivamente sta accadendo quello che avevamo sentito nelle profezie. Sì, diciamo che in questo ultimo secolo sono tante le volte in cui Maria ci ha avvertito di pericoli che poi si sono verificati per la nostra insipienza, la nostra incapacità. Io non ho il compito di andare a, come dire, a contestare le cose che vengono fatte. Però, per esempio, non si può non ricordare che negli anni 30-40, dopo tante reiterate richieste del cielo attraverso Maria, attraverso Gesù, di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, a un certo punto venne detto dal cielo il Papa la farà, ma sarà tardi. Allora, ricordiamoci che l'anno scorso, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio, un mese dopo è stata fatta una consagrazione in cui per la prima volta nella storia è stata nominata la Russia. Nessuno di noi può dare certezze su questo. Però io personalmente un dubbio lo conservo, cioè, se si fosse fatta prima questa consacrazione, secondo i termini chiesti dalla Madonna, perché non erano mai stati rispettati totalmente, la Russia non era mai stata nominata, ad esempio, forse qualcosa sarebbe potuto accadere di diverso. Alla fine comunque Papa Francesco l'ha fatta. La farà, ma sarà tardi, vuol dire che comunque a quel punto un qualcosa dal cielo è stato accettato. Non perché il cielo intervenga per cambiare la storia, ma per aiutarci a comprendere meglio quello che accade e comunque per rafforzarci nella nostra idea, nella nostra volontà, in questo caso, di pace o in tanti altri casi di altre cose. Vi rassicuro, perché so già che ne volete sapere di più, il collega ha quasi ultimato un libro che uscirà presto e quindi ne sapremo tantissimo fino al dettaglio, giusto? Confidiamo. E di intorni. Almeno di Fatima, sì. E questo è molto, molto importante. E per quanti volessero approfondire questi temi, l'invito è a raggiungere l'aula Meripail della Chiesa San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo dove appunto si svolge il convegno, il poliedro della pace. Saverio, tu hai scritto anche su Padre Pio, hai scritto su tante realtà che possiamo dire anche all'interno della Chiesa non vengono assorbite in maniera uniforme. a che cosa sei più affezionato come libro che è stato utile proprio a noi gente comune della Chiesa? Ma essendo qui a San Giovanni Rotondo io ho un libro di cui sono orgoglioso che abbiamo fatto insieme con Andrea Tornielli il collega vaticanista attualmente direttore editoriale dell'ambito vaticano che fu quella tra virgolette difesa di Padre Pio dopo quell'attacco dello storico Luzzatto che mise in campo tutte le varie questioni relative abusi chimici di Padre Pio per farsi le stimmate e così via lavorammo in maniera intensissima per rispondere una a una a tutte le obiezioni e io sono assolutamente convinto che ci siamo riusciti con Andrea a fare questo tentativo di risposta totale e globale ovviamente è un qualcosa che non era ostile a qualcuno ma era per difendere quella che è la memoria di San Padre Pio che non è soltanto un'idea astratta un'immagine astratta per tutti noi ma è un santo che concretamente ha incarnato in sé il sacrificio per gli altri e allora in questo momento probabilmente c'è proprio bisogno di questo in questi tempi di guerra che comunque ognuno di noi per quello che può fare si sacrifichi in nome di quello che ritiene più grande la pace ma soprattutto la fede invito i nostri telespettatori e le telespettatrici andare sul sito Saverio Gaeta così trovate tutte le copertine tutte le maniere più adatte alla vostra sensibilità per conoscere meglio tante tante realtà della Chiesa naturalmente ti ringraziamo Saverio per tutta la tua disponibilità e come sempre ci tocca il momento di dire di salutarti quindi grazie per essere stato con noi stamattina e arrivederci alla prossima volta certo grazie a voi e agli ascoltatori